la notizia odierna può di fatto mettere la parola fine alla telenovela relativa a leo messi quest'oggi nel giorno in cui io sto registrando questo video 30 agosto 2020 sono stati due gli eventi fondamentali nell'ambito della vicenda dell'intricatissima vicenda leo messi il primo risale a questa mattina è una notizia molto importante anche che va a confermare la rottura che di fatto messi sembra aver avuto perlomeno con l'attuale management del club e sappiamo benissimo tutti che il rapporto che si è rotto principalmente fra messi e club è quello con Bartomeu il presidente del barcellona questa mattina messi doveva presentarsi alle ore 10 e 15 al campo di allenamento del barcellona per effettuare il tampone anti covid come prevede la procedura sanitaria ma messi non si è presentato di conseguenza non ha potuto o meglio non potrà anche prossimamente svolgere gli allenamenti perché prima di poterlo fare dovrà inevitabilmente sottoporsi al tampone ma soprattutto al di là della conseguenza meramente concreta del fatto come dicevo poco fa questo è un ulteriore segnale che messi ha mandato nei confronti del club in merito a quello che dovrà essere il proprio futuro nel corso del pomeriggio invece si è stato diramato un comunicato ufficiale direttamente dalla liga spagnola che adesso vi mando in sovrimpressione e essendo in spagnolo vi traduco anche in tempo reale eccolo qui come potete leggere nota informativa direttamente dalla liga questo comunicato ragazzi riguarda la celebre clausola rescissoria da 700 milioni di euro che sembra esserci nel contratto di messi qualcuno riteneva che questa clausola fosse di fatto scaduta nel corso di questi giorni entro la fine di agosto qualcun altro invece tra cui a questo punto si aggiunge anche la stessa liga spagnola ritiene che questa clausola sia ancora in voga cosa dice il comunicato della liga cito testualmente dalla metà in giù circa il comunicato diffuso la liga spagnola dice il contratto è attualmente in vigore e prevede una clausola risolutiva applicabile nel caso in cui lionel andres messi decidesse di sollecitare la risoluzione anticipata unilaterale del contratto eseguita ai sensi dell'articolo 16 del reggio decreto e tutto il resto le questioni legislative che regola il rapporto di lavoro dagli atleti professionisti quindi viene confermata di fatto la presenza di questa cosiddetta clausola risolutiva viene viene descritta così la parte finale però è quella fondamentale in conformità con le normative applicabili e seguendo la procedura corrispondente in questi casi la liga non eseguirà alcuna procedura di visto preliminare per allontanamento del giocatore dalla federazione se non previo pagamento dell'intero importo della suddetta clausola questo cosa significa ragazzi che la liga spagnola fa sapere torno su di me nel frattempo fa sapere che non approverà in qualche modo nessun tipo di separazione fra leo messi e il barcellona che non preveda il pagamento da parte in questo caso di un altro club dell'intera clausola recessoria da ben 700 milioni di euro presente appunto nel contratto di messi questa notizia che conseguenze porta la conseguenza più immediata e sicuramente più importante riguarda il futuro dal punto di vista sportivo di leo messi è chiaro che immaginare un club anche fra i più ricchi che possa permettersi di pagare 700 milioni di euro per strappare messi al barcellona al quale poi andrebbe dato un ingaggio ugualmente importante è un qualcosa di assolutamente impensabile che sia l'inter ma in questo senso che sia anche il pari san germain o il manchester city nessun club sulla faccia della terra ad oggi può permettersi di spendere sull'unghia 700 milioni di euro in un'unica soluzione peraltro come prevedono le clausole recessorie per strappare messi al barcellona di conseguenza muovere messi da barcellona diventa ancora più problematico e questo va un po' a cozzare con il fatto che messi però continua a mandare segnali di rottura e di separazione con il club tutta questa vicenda però non fa altro che alimentare l'idea che molte persone in queste ore stanno riportando sia a livello social che a livello di indiscrezione la vera rottura infatti di messi con il barcellona l'ho detto anche all'inizio di questa clip è in realtà più con il presidente bartomeu presidente con cui messi non ha mai avuto un rapporto positivo e che messi spinge da ormai da diverse settimane per le dimissioni dello stesso bartomeu di conseguenza in tanti stanno dicendo e questa notizia di oggi andrebbe in qualche modo ad avvalorare questa tesi che quella di messi non sia in realtà una volontà di andare via bensì tutto questo questa querelle questa vicenda in queste settimane non sia altro che una messi una messi in scena orchestrata dallo stesso messi non appunto per lasciare il barcellona ma per costringere a mettere spalle al muro il presidente bartomeu e portarlo quindi alle dimissioni in questo senso la volontà da parte del club di tagliare alcuni calciatori della rosa del barcellona su tutti lui suarez ma anche altri come piquet e giordi alba non ha aiutato chiaramente a conciliare i rapporti con leo messi che con tutti questi profili era molto legato ed era un grande amico il nuovo allenatore a kuman però non ha mai detto di volersi privare di messi e naturalmente non può farlo visto il grandissimo legame che c'è sia fra il calciatore e buona parte la rosa che molto di più fra il calciatore e la piazza quindi tutta questa vicenda non fa altro che appunto far pensare che la vera volontà di leo messi non sia quella di lasciare il barcellona bensì sia quella di far dimettere bartomeu in questo senso anche l'addio di eric abidal ex ormai direttore sportivo del barcellona sembra andare in questa direzione l'addio risale ormai a una decina di giorni fa anche abidal però stando alle indiscrezioni provenienti direttamente dalla spagna sembrava essere sembrava far parte di quel gruppo di persone che messi non vedeva di buon occhio e che quindi avrebbe voluto lontano da barcellona ragazzi cosa dire questa notizia secondo me è un vero e proprio spartiacque della vicenda messi perché se veramente venisse confermato che l'unico modo per strapparlo da barcellona fosse quello di pagare la clausola da 700 milioni di euro a questo punto le porte dell'addio della pulce argentina dalla dalla catalogna si chiuderebbero definitivamente fateci sapere ragazzi nei commenti che cosa ne pensate iscrivetevi al nostro canale youtube vi ricordo che ci trovate in diretta ogni giorno alle ore 19 e fra veramente pochissimi giorni avrete tante belle novità sia per il canale youtube che anche per il canale twitch seguiteci poi naturalmente anche su tutte le nostre piattaforme di podcasting che andiamo ad alimentare costantemente spreaker spotify apple podcast e google podcast e e e e e